...direttore di Lucca Comics & Games, la manifestazione che il mondo ci invidia. Intanto non cambiate mai nome perché Lucca deve rimanere ancorata al territorio, però i tentativi di emulazione sono molti a livello italiano e anche europeo. È stata presentata la prossima edizione a Milano nei giorni scorsi. Quali sono le novità? Ma allora, innanzitutto guarda, mi dai un paio di spunti interessantissimi che sono il nome della manifestazione. Sì, in effetti adesso i festival di fumetti, di giochi o come viene chiamato di pop culture sono fra le manifestazioni che più piacciono alle comunità perché sono decrocivia di arte, di commercio e un'intersezione di tante comunità, gli appassionati di mitologie contemporanee, e quelli che attraverso il fumetto come Zero Calcare e Gipi vogliono conquistare il presente. E noi sai, alla fine non abbiamo paura di essere emulati, anzi, e l'abbiamo dichiarato con il tema di quest'anno. A noi questo piace molto. Piasce molto perché in qualche modo Luca, nata nel 1966, sa che raccontando e conquistando questi nuovi media, queste nuove forme di storytelling, ha creato un effetto farfalla, un effetto a catena. E infatti, proprio a Milano, il 25 settembre, abbiamo presentato il secondo atto dell'opera collettiva che è Luca Comics & Games, The Butterfly Effect, l'effetto farfalla. E quest'anno a Luca Comics & Games celebreremo in primis il grande, inevitabilmente, effetto farfalla che ha avuto sulla pop culture e sull'intrattenimento e sull'industria creativa è Giacomo Puccini, che verrà celebrata attraverso una trilogia di poster del maestro e del sensei Yoshitaka Amano, una dedicata a Tosca, una a Butterfly e il terzo, Turandot, che sveleremo al look. Yoshitaka Amano è il grande designer di Final Fantasy, uno dei più importanti videogiochi di tutti i tempi, ma anche il designer di Tatsunoko, quindi Ariken Polimar, Kiyashan, Teckamen e Mago Pancione. E quindi, all'insegna del Butterfly Effect, celebreremo i 50 anni di Dungeons & Dragons, quel meraviglioso gioco di ruolo che ha cambiato per sempre il modo di fare cultura in tutto il mondo e tutti gli altri grandi effetti farfalla che la nostra comunità ha fatto con più di mezzo milione di anime ogni giorno genera da Luca su tutto il mondo, cambiando e creando nuove modalità di entrare in relazione. Quindi sì, Luca è la manifestazione più emulata nel mondo, una delle più antiche nel mondo della pop culture, ma noi siamo fieri e quest'anno celebriamo il Butterfly Effect. La cultura, quella del fumetto, forse considerata erroneamente parente povera della cultura alta, ma abbiamo visto che si sposano con Puccini, quindi è sempre più cultura che si unisce ed sono sempre più generazioni che si uniscono perché si resta giovani appassionandosi a questo mondo. Ma sai, allora, intanto Luca Comics & Games è una fiera, ma non è una fiera. Sì, è dedicata al fumetto, ma è dedicata soprattutto e molto anche al gioco, al cinema, alle serie TV e questi non sono dei generi, sono dei veri e propri linguaggi. Ormai abbiamo sfondato ampiamente il tema del fatto che il fumetto è un genere per bambini. Il linguaggio è un grande media che attraverso maestri assoluti come Art Spiegelman ha raccontato l'orocasto o appunto grazie ai nostri maestri del contemporaneo riesce a raccontare storie molto difficili, basta pensare all'ultimo volume sociale di Emiliano Pagani. Insomma, il fumetto ha raggiunto molto di più della maturità, è maturo da sempre e la nonna Arti, che è la chiesa al centro del villaggio, a Luca Comics & Games racconta una cultura ma con grande umiltà interdisciplinare. Noi non abbiamo mai pensato alla parola cultura come qualcosa di alto e di basso. Noi ci speriamo alle parole del filosofo, uno dei più importanti italiani, Aldo Masullo, che nell'Alexio Magistrali di Bari del 2002 disse cultura viene da colere, coltivare, ma il suo etimo profondo è prendersi cura con amore di sé e degli altri e quindi per noi fare cultura vuol dire soprattutto non creare un festival, Luca, un festival ma non solo, è creare un evento rituale, un community event in cui i veri protagonisti siano i nostri spettatori che come diceva Judith Marina negli anni 70 noi li invitiamo ad essere partecipanti, visita autori, venire a Luca e non essere soggetti come in un festival ordinario alle parole dei sapienti, non essere discenti ma venire e conquistare il presente attraverso sì il fumento con i loro autori ma li invitiamo ad essere protagonisti dello show perché come Luca Comics & Games dice ogni anno alla University of Southern California, all'Università di Harvard che vengono a Luca a studiarci le persone non vogliono più vedere uno show, ascoltare, ma vedendo e ascoltando vogliono essere protagonisti e fare arte su arte e questa è la lezione del più iconico dei giochi di ruolo Dungeons & Dragons e noi che ci occupiamo di culture popolari partecipative e interattive lasciamo il tema della cultura alta e della cultura bassa agli altri noi ci prendiamo cura con amore della nostra comunità come ci invitava Aldo Masullo. Io vedo delle analogie, non so se le vede anche lei, in questo senso di community rispetto alla manifestazione molto più grande, chiaramente Luca Comics e più longeva è NGF perché anche qui si crea una community aperta a tutti in cui i giovani devono partecipare e essere protagonisti e nella quale anche, attenzione, i creators, gli artisti vogliono essere presenti per incontrare la loro platea. Ha anche lei questa sensazione? Ma allora, io oggi mi sento in un pezzo di Luca Comics & Games e devo dire che con Bernard Dica con cui è nata un innesco meraviglioso che poi ci ha portato a creare Slow Games Slow Life con l'ASL che ha fatto giocare 15.000 ragazzi, che ha portato 15.000 giochi da tavolo nelle scuole della Toscana la più grande operazione di diffusione del gioco da tavolo l'abbiamo fatta noi della regione toscana in regione insieme all'ASL. Sì, questa roba qua è esattamente Luca Comics & Games esattamente i festival che funzionano sono dei community event questa è la lezione di Luca Comics, sono dei crocevia in cui tante community diverse si incontrano e non è un caso se stamattina qui c'era Gazzoli che con il suo basement è stata Luca Comics & Games se oggi pomeriggio ci sarà Curolili, Sara, che è una dei nostri host, è una dei nostri ambassador è una scrittrice di libri giochi, quindi di letteratura interattiva e infine Arianna Craviotto lo scorso anno creator e doppiatrice che è stata ambassador del nostro Family Palace sì, il Next Generation Festival di Luca e di Firenze, della regione, è un'altra grande eccellenza della Toscana perché, come abbiamo detto al nostro Presidente, se Variety dice che Luca è il più grande show occidentale se Luca può sfidare la grande e influente San Diego Comico, la Toscana deve sfidare la California e diventare ogni volta, grazie al suo rinascimento, al suo umanesimo, un crocevia straordinario per tutto il mondo per rinnovare una cultura che vada dal sud-est asiatico fino all'America nord-accidentale e ricordiamo anche brevissimamente che c'è un altro connubio che parte proprio quest'anno quello con la Toscana delle donne e con delle bravissime fumettiste creator che prenderanno parte a questa edizione, quindi il fare rete con i giovani ma anche con l'universo femminile perché sono bravissime, talentuosissime e quelle che sono qui sono donne ma allora, innanzitutto devo dire appunto lo staff che sta dietro al Next Generation Festival che è lo staff del Presidente della regione, Eugenio Gianni, è stimolantissimo e dopo aver fatto il grande progetto legato all'arte di Copinski per il Tour de France Cristina Manetti ci chiede di affrontare il tema delle donne che Luca Comics & Games attraverso un fumetto impegnato intellettualmente e una riflessione continua ha già fatto negli anni precedenti ed ecco che allora quella maturazione che Luca Comics & Games aveva fatto sulle questioni di genere ci ha portato a realizzare questo bellissimo progetto che atterrerà il 16 novembre in uno spettacolo dal vivo all'interno del quale lanciando il progetto Toscana delle donne tre straordinari artiste, due Toscana e una romana, quindi la romana Rita Petruccioli da sempre impegnata sul fronte del fumetto sociale al fianco delle battaglie di genere la Margherita Tramuntoli, la Tram Livornese che da sempre è impegnata nella cooperazione internazionale e Alice Milani che sarà autrice del poster di una delle nostre manifestazioni del 2025 collezionando, performeranno dal vivo in teatro e poi la settimana successiva in occasione della giornata mondiale contro la violenza delle donne una grande mostra dedicata a queste tre autrici quindi il connubio sull'asse Lucca e Firenze, questa fabbrica toscana del fumetto si rilanciano anche i temi di genere con Rita Petruccioli, la Tram, Margherita Tramuntoli e Alice Milani e non sveliamo troppo, ricordiamo solo le date della prossima edizione del festival vi aspettiamo tutti dal 30 ottobre al 3 novembre nell'arborato cerchio per incontrarci, contaminarci e vivere all'insegna del protagonismo culturale grazie allora anche Emanuele Vietina, direttore di Lucca Comics & Games ci fermiamo per qualche istante e poi in diretta ancora per la sessione pomeridiana ciao e grazie